Vi devo dire una cosa. Cosa? Lo sapete la storia della testa? Quale testa? Quella della Madonna che sta in piazza. È rimasta senza testa. E allora? E allora niente. Io so dove sta. Me l'ha detto la Madonna questa notte. La Madonna che ha parlato questa notte, capito? Che vuoi? No, perché questa parla con la Madonna, quella la cugina di Parisino. Ma cosa vuoi? La mia! Merda tua, questo è il risultato. Figlie due. No, figlie due sono. Guarda come sono bellino. Guarda a te sono. Ah, bello, sai. Va, vattene, vattene che è meglio, va? Emanuele, tesoro, noi ti abbiamo cresciuto nella mia casa. Tu lo sai benissimo. Ti ho dato Nutella, frittate, tutto ti ho dato. E conosci a mai quello di quando sei nata. Sempre. Ti faceva giocare. Ti ricorda come giacavate? Ti faceva ridere sempre. Che cosa potrebbe fare lui? Io non ti chiedo un miracolo per me, completamente, perché la mamma è mamma. A me quello che mi interessa proprio del profondo del cuore è di questo mio figlio. Che lo voglio bene, che è gentile, è stato fermo. Deve andare oggi a mio, in una trasmissione, qualunque, che lui c'ha tutto questo verbo, tutte queste... Ti ricordi che cantava a casa? Io canto, ballo, voglio andare a Roma con l'aereo nel tuo grande fratello, vuoi diventare famoso. Deve diventare famoso, capito? Così poi ce l'andiamo. Ti possiamo invitare pure a te. E ti metti a fare i miracoli a Roma, no? Che affare, che miracoli? Li metti a fare a Roma, a casa mia. Lui fa un grande fratello, un grande fratello, qualunque cosa.